Ciao ragazze e ragazzi nuovo video, nel video di oggi faremo la recensione che è su strada e vedrete un po' come si comporta questo nuovo prodotto in casa di E.T. Cosmetics questo qui è l'E.T. Cosmetics Your Skin Better Foundation Pure Skin Care ed è praticamente il nuovo prodotto complexion nuovo in casa E.T. Cosmetics adesso che sto filmando questo video questo prodotto non è ancora uscito in Italia penso arriverà a breve, magari a inizio settembre quindi se vedendo questa recensione e vedendete su strada siete interessati tenetamente che dovrete aspettare secondo me ancora qualche settimana contate che è stato lanciato forse qui in Nord America due o tre settimane fa massimo però è veramente super nuovo essendo che appunto non è ancora stato lanciato in Italia non vi so dire esattamente il prezzo ma presumo che venga a costare tra i 35 e i 40 euro e E.T. Cosmetics in Italia la potete trovare su Google Glass Italia E.T. Cosmetics è super famosa per la CC Cream a differenza della CC Cream questo qui ha molte più shade range perché la CC Cream ha solo 15 shade range mentre questa qui ne ha ben 40 alleluia anche perché io non sono mai riuscita a trovare la mia giusta tonalità nella CC Cream tutte le tonalità ho notato che viravano sul grigio diciamo le tonalità chiare per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia carnagione oltre al fatto che per me questa formula anche se famosissima piace tanto a un sacco di persone best seller eccetera eccetera non mi ha mai fatto diciamo non mi ha mai fatto non mi ha mai non mi ha mai fatto impazzire oltre al fatto che questa qui la CC Cream ha all'interno veramente tantissimi ingredienti e questa è la differenza maggiore anche da questi due prodotti ovvero la CC Cream ha tipo non lo so tipo una lista lunghissima vi metto una foto qui di ingredienti oli essenziali un sacco di oli che sono super sensibilizzanti soprattutto se avete la pelle sensibile come la mia versus questo qui non solo non ha tutti gli oli che ci sono all'interno di questo ma non ha la fragranza finalmente le aziende forse si stanno svegliando e stanno capendo che non abbiamo bisogno di spalmarci il profumo in faccia per quanto riguarda la mia pelle sensibile se c'è un prodotto senza fragranza c'è sono super contenta appena mi sono informata sul lancio di questo prodotto sono andata a guardare gli ingredienti ero super contenta lista super corta senza fragranza quindi assolutamente kudo come si dice qui kudo to IT Cosmetics per finalmente lanciarsi in un nuovo mondo e magari altre aziende inizieranno a seguire diciamo dopo magari altre aziende inizieranno a seguire l'esempio non ero fan di questa ma appena ho sentito che questa lanciava mi sono andata a fiondare c'è da dire che IT Cosmetics è anche un posticino nel mio cuore semplicemente per la fondatrice del brand non so se la conoscete vi metto il suo profilo Instagram qui ma credo di averla conosciuta una buoni fa attraverso un podcast e ho conosciuto la sua storia da una storia bellissima di una donna appunto che voleva una cosa aveva un sogno e ha ottenuto il successo che ha ottenuto adesso nelle varie interviste che ha fatto se ne possono veramente trovare tantissime racconta appunto dei vari struggle che ha avuto di quanto sia stato difficile di quanto sia stato overwhelming anche perché la sua sissy cream ha subito diciamo fatto il boom infatti all'inizio in America era venduta su QVC che è tipo un programma dove devi andare live e tipo hai tipo 5 minuti e devi vendere un tot di prodotti se non vedi un tot di prodotti QVC non ti fa venire per la prossima volta quindi vi lascio immaginare la pressione di dover vendere che ne so 10.000 pezzi in 5 minuti quindi dopo quindi dopo avervi raccontato questo è una storia veramente cioè c'è proprio una storia bella quando vedi e senti queste storie di donne di successo ti veramente motivano a fare di più nella tua vita a spingere andare oltre ai tuoi limiti lei era infatti una giornalista e aveva un problema di rosacea e praticamente nelle varie interviste che ha fatto diceva che non riusciva mai a trovare un trucco o qualcosa che calmasse la sua rosacea ma soprattutto che coprisse la sua rosacea quindi ha detto screw you I'm gonna just create my line I'm gonna create my foundation everything and now IT Cosmetics veramente veramente una una bellissima una bellissima bellissima storia comunque a parte questo vando alle cianci che credo che questa questa intro sia diventata già troppo lunga vi faccio vedere i miei test su strada e a fine video vi dirò il mio e poi a fine video vi dirò le mie opinioni su questo nuovo prodotto in casa IT Cosmetics ok oggi primo giorno di test di questo nuovo prodotto in casa IT Cosmetics come vi ho detto nell'intro sono super esaltata dall'uscita di questo prodotto perché è il primo prodotto IT Cosmetics senza fare granza cioè yes sono troppo contenta come vedete sono bella bella zoomata così potete vedere tutti i miei pori non so niente riguardo a questo fondotin da parte che appunto ha una formulazione molto molto semplice devo dire sono esaltata anche perché molte volte tutte le formulazioni delle BB cream e CC cream famosissime di IT Cosmetics hanno anche un sacco di oli essenziali che in realtà sono sono degli ingredienti che io cerco di evitare avendo la pelle sensibile e molto reattiva quindi quando sono andata a leggere la lista degli ingredienti ero molto contenta perché veramente c'è praticamente niente di arricante per la pelle e infatti dici che questo qui non è comodeggio comedogenico ed è anche apposito per la pelle sensibile comunque lo proveremo io l'ho preso nella tonalità l'ho preso nella tonalità light warm 21 spero mi vada e spero che oggi non sia una pazza con Jay oggi andremo abbiamo con Jay oggi abbiamo il nostro giorno off e andremo all'avventura delle campagne attorno qui stiamo cercando ok magari non ho messo troppo ok ok iniziamo a sfumare sul oh no ok non sapete cosa quello è il problema che sul packaging c'era scritto che dovevo shakerare il tutto ok rewind fatemelo shakerare e riproviamoci inoltre dice che due pump sono a posto per tutto il viso e direi di sì e poi sul packaging dice di sfumarlo con il pennello di ET Cosmetics che io non riesco a trovare però utilizzo questo qui del brand laxi in altre non vedo l'ora che mi arrivi il nuovo set di pennelli laxi perché questo pennello ormai ce l'ho tipo da 4 anni e sta iniziando a perdere i colpi o i peli comunque oh vabbè direi che il colore io l'abbia azzeccato anche perché comunque essendo un prodotto ha bassa medio coprenza non è che anche se non è super super perfetto il match si va comunque a si va comunque a sfumare con il resto della pelle questo qui è il risultato con il fondotinta appena applicato come vedete ha uniformato l'incarnato coperto praticamente niente c'è proprio una coprenza super super leggera sembra di non avere niente sul viso voglio vedere se riesco a costruire leggermente la coprenza sopra le mie guance è molto molto liquido come fondotinta quindi secondo me può essere anche applicato con le mani per un'applicazione tipo veloce questo è il risultato della pelle però a me il risultato piace lo sapete che io amo anche i fondotinta a mega bassa coprenza soprattutto adesso poiché è estate in generale tendo o non a utilizzare proprio il fondotinta o ad utilizzare fondotinta a coprenza più leggera mi fa troppo rendere che la CC cream e la BB cream sono tipo 50 volte più coprenti rispetto a questo però questo è chiamato fondotinta mentre le altre sono chiamate CC cream una differenza sicuramente una differenza tra la CC cream e questa è che la CC cream è proprio bella cremosa bella presente come prodotto questo qui invece è super super lightweight comunque vado a farmi la base con prodotti che so che amo e che funzionano su di me così poi vediamo il risultato del fondotinta se così possiamo dire con tutti i prodotti applicati quindi faccio una time lapse così questo video non dura 150 ore ciao Grazie a tutti Ok questo qui è il risultato del fondotinta appena applicato con tutti gli altri prodotti Devo dire che a me il risultato adesso piace, adesso andremo e guarderemo il risultato con la luce naturale Per vedere se la luce naturale è ancora meglio certe volte Specialmente con questi prodotti che sono così a bassa coprenza La luce naturale è la luce che dice la verità Perché le luci dello studio amano fondotinta, full coverage Amano trucchi super marcati Un sacco di correttore, un sacco di fondotinta, un sacco di contouring Perché comunque le luci tendono ad appiattire Quindi andiamo subito a vedere la luce naturale Ma per ora adesso mi piace Ma appunto vedremo come si comporta durante la giornata Il risultato alla luce naturale del fondotinta appena applicato Come vedete Ora il risultato piace Super super light coverage Quindi se volete coprire questo Credo che posso fare poco Però a me non dispiace assolutamente Vedremo come si comporta durante la giornata Ok ragazzi voglio fare il check in del fondotinta Perché sono passate tantissime ore Sono le 5 del pomeriggio Stamattina mi sono truccata più o meno verso le 7 e mezza Questo qui è il risultato del fondotinta Dopo appunto tutte queste ore Devo essere onesta Non mi sta facendo impazzire Ovvero ero partita super positive Non so per quale ragione Ma questo prodotto mi ispirava veramente tanto Definitivamente avevo tipo delle aspettative troppo alte Ma oggi siamo stati un po' in giro con Jay E sa c'era caldissimo E il prodotto non ha resistito al caldo Ora io non so se Dallo schermo dell'iPhone potete vedere Però vedete tipo tutto ha macchie Non è perfetto Ma poi nella vita reale ci sembra che io abbia il fondotinta Cioè non lo so È un qualcosa di stranissimo Devo continuare a provare questo prodotto Però come primo test Dove essere onesta Mi dispiace troppo Perché ero troppo troppo contenta Di finalmente vedere un'azienda Che ha sempre creato fondotinta con fragranza Andare verso la non fragranza Però devo dire che Non lo so Non mi ha convinto al 100% Però continueremo i test E vi continuo ad aggiornare Con il secondo giorno di test per questo prodotto Di IT Cosmetics Primo giorno andato Non è andato benissimo Ma neanche male Quindi voglio provarlo oggi Per vedere Quali sono i miei feeling Per questo prodotto Perché come vi ho detto Sono abbastanza esaltata Essendo appunto il primo prodotto Di IT Cosmetics Che non ha la fragranza Oggi inoltre verrà testata Abbastanza bene Perché andremo con già In un parco nazionale Qui vicino Andremo a fare hiking Quindi camminata Scarpinata Insomma in italiano E quindi vedremo come si comporta Quindi non mi andrò A truccare gli occhi Perché cioè Già che mi sto mettendo In fondotinta È qualcosa di Che non farei mai Però appunto Essendo che voglio fare i test E voglio veramente capire Se questo prodotto mi piace Però no Ho pensato di metterlo al test Comunque fatemi Facciamo che vi zoom Così potete vedere meglio La mia faccia Ok come vedete Belle zoomate Potete vedere tutti i miei pori Ho anche un brufolino Qui credo perché Ho mangiato delle cose Che non dovevo mangiare Vado e applico Semplicemente un po' di questo Primer idratante Questo qui Ed è la Laura Mercier E lo applico In questa zona Ok Allora Mettiamo il fondotinta Che poi inoltre Lo chiamano fondotinta Ti lo chiamano fondotinta Però è super super leggero Comunque Shakeriamo 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 Inoltre dietro la boccetta C'è scritto Che è la vostra pelle La texture della pelle Migliora dopo due settimane Di uso costante Ora Non posso dirvi Se è vero oppure no Però Inoltre La prima volta Ho notato che Essendo molto molto liquido Non avete Bisogno di tantissimo prodotto Inizio così E poi se voglio stratificare Posso farlo Vado con Il pennello Ok Questo qui Comunque È il risultato Con Uno strato Sottilissimo Di prodotto Il prodotto È super super leggero Cioè In senso Copre Veramente Veramente Poco Questo È il risultato Da un lato E dall'altro Corna su corna Ovviamente È bomba Va bene Ciao 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 Ok Eccomi qui Con Il check in Alla luce naturale Del fondotinta Appena applicato Ho applicato Semplicemente Con il rettore Un po' di cip Un po' di blush Perché come ho detto Tra 4-5 ore Io già andremo In un parco nazionale Qui vicino a casa A fare una Camminata Insomma Nei boschi E Appunto Questo è il risultato Come vedete La coprenza È veramente leggera C'è praticamente niente Qui Ho i segni Vedete Ho dei segni Tipo dell'H Le ho praticamente coperti Quindi dipende Un po' cosa cercate voi Se cercate proprio Qualcosa Che vi uniformi Semplicemente Ma Vi farò vedere Il risultato Di questo fondotinta Magari Prima della camminata E poi dopo la camminata Quindi poi potete vedere bene Come è Il mio viso Speriamo che Resista veramente Perché Vorrei Sembrare Decente Ok Quello che ho notato Dopo i vari test Su strada Dopo aver provato Il fondotinta Con voi Appunto Con la telecamera Senza telecamera Nella mia vita Tutti i giorni Quello che ho notato Che è sicuramente Un buon prodotto C'è da dire Che dipende Un po' cosa voi State andando a cercare In un prodotto Fatemi spiegare Se voi state cercando Qualcosa che sia Super lunga durata Che duri Al caldo 10.000 ore 13 ore Che non si muova Totalmente Questo qui Non penso che sia Il prodotto Adatto a voi A me Sulla mia pelle Non mi è mai durato Tantissimo Ovvero tutti i test Che ho fatto su strada Non mi è mai durato Cioè in senso Per le prime 4-5 ore Il fondotinta è buono Poi passato Quel mark Delle 5 ore Trovo che il fondotinta Tenda leggermente A rompersi Sulla mia pelle Ma è sicuramente Un fondotinta A lunga durata Detto ciò Se non cercate Un fondotinta Che vi duri 350 giorni Ma cercate Un fondotinta Da tutti i giorni Leggero Perché ha una coprenza Veramente leggera Come avete visto Copre praticamente niente Quindi anche qui Dipende Siete più ragazze Siete più Persone da Amo il full coverage O mi piace più Una light coverage Quindi una Una coprenza Più bassa Quindi dipende Sempre Dalle vostre preferenze Da quello che state Cercando Da un fondotinta Questo qui Sicuramente Bassa coprenza Non a lunga tenuta Più ideale Secondo me Per un prodotto Che può essere utilizzato Per la vita Di tutti i giorni Perché appunto Non ha niente di che Nella Non ha niente di che Nella Nella formula E secondo me È perfetto Appunto Per tutte le persone Che hanno la pelle Sensibile C'è da dire Che questo fondotinta Qui si dice Grown on me È praticamente Cresciuto Cioè All'inizio avevo Un sacco di aspettative Poi Poi ci sono rimasta male Perché pensavo Che fosse A lunga durata Quando poi ho capito Che tipologia Di prodotto è E cosa mi dovessi Aspettare Da questo fondotinta Perché ovviamente Tutte le nostre aspettative Per ogni uscita Sono Ok deve durare 150 ore Deve essere full coverage Perfetto Devo avere la pelle perfetta Ed è sicuramente Ci sono prodotti Secondo me Sul mercato Che Hanno caratteristiche Più performanti Per quanto riguarda Durata Rispetto a questo Però c'è da dire Che per tutti i giorni Secondo me Questo qui È un buon fondotinta Se la CC Cream Non ha funzionato per voi Se la CC Cream Trovate che sia Troppo pesante Troppo cremosa Se avete la pelle sensibile Come me E non volete utilizzare Appunto Un prodotto Che abbia Fragranze Olio essenziali Eccetera eccetera Provate questo Come sempre vi dico Fatevi dare un sample Da Douglas Se riuscite a farvelo dare Perché si tratta Di una cosa soggettiva Però se cercate qualcosa A lunga durata Ve lo dico Questo non è Se cercate qualcosa Da tutti i giorni Easy Che potete anche spalmare Con le mani Senza pennello Cioè proprio così Tutto 5 minuti Giusto da uniformare Il vostro incarnato Secondo me Questo è un buon prodotto E che io mi sento Di consigliare Mi è comunque piaciuto In queste settimane A parte appunto La durata E all'inizio Ci sono guassa Bramente male Perché ero convinta Di brossi tantissimo Non lo so Si vede che Ero troppo esaltata Che finalmente Un brand come IT Cosmetics Si stesse affacciando A Anche alle pelli sensibili Si stesse preoccupando Del fatto che Magari mettere 150 oli Che sono sensibilizzanti Per la pelle Più la fragranza Non è proprio Un cocktail magico Per noi Pelle sensibile Quindi Quindi ero super contenta Però devo dire Che alla fine Io continuerò Ad utilizzare questo prodotto Non è sicuramente Il fondotinta Che utilizzerei Se devo fare Un evento Però Per la vita Di tutti i giorni Per la ragazza Che non deve fare Niente di che Nella vita Non lo so voi Ma io sui recarper Non ci vado Questo potrebbe essere Un prodotto Adatto a voi Comunque ragazzi Spero tanto Che questa recensione Vi abbia fatto capire Se questo fondotinta Possa essere fatto Per voi Secondo me È un buon prodotto Sicuramente Ci sono delle caratteristiche Che non Ci sono delle caratteristiche Che secondo me Mancano a questo prodotto Se questo prodotto Fosse stato Un po' più a lunga durata Sarebbe stato Il prodotto perfetto Secondo me Mezzo punto in meno Per la non durata Però per il resto Devo dire Che a me è piaciuto E comunque Continuerò ad utilizzarlo Assolutamente Nella mia vita Di tutti i giorni Quando non voglio farmi La full face Full coverage 24 ore tenuta Insomma Quindi ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia dato a capire Se questo può essere Il prodotto Adatto a voi Io vi mando Un bacione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao